Assai cose, dissi di Massimo, e più che basti a convincervi che non avvia motivo di chiamare disagevole una vecchiezza pari alla sua. Ma non tutti, però, ponno essere scipioni o fabi per godersi nelle rimembranze di espugnate città, di battaglie campali o di mare, e di guerre condotte e riportati trionfi. Tranquilla e piacevole trascorre del pari la vecchiezza in senno alla gentile abitudini d'una vita placida e pura. Così narrasi di Platone, che giunto all'ottantesimo anno, si spegnesse scrivendo, di Socrate che, grave di 94, componeva il suo libro del Panatenaico, vivendo poscia altri cinque anni. Fu suo maestro Giorgia Leontino, che varcò il centossettesimo anno, senza mai distogliarsi dagli intrapresi studi né abbandonate le consuete faccende. «Richiesto un giorno, come mai sapesse reggere in così lunga vita? Perché, rispose, la vecchiezza non mi dà finora motivo di essere malcontento?» Sublime risposta, degna di così valentuomo, conciossi a che gli uomini rozzi solamente incolpano l'età senile di loro melenzaggine e dei loro difetti. «Così non la pensò quel legno, a voi già noto, pari ad estrier che la sudata arena, correndo, vinse i contrastati allori ed or carico danni, sta e riposa». «Paragona la sua vecchiazza a quella d'antico animoso corsiero vincitore, e di lui certamente voi potete avere qualche memoria». «Diecinove anni dopo sua morte, vennero al consolato Tito Flaminio e Marco Acciglio, ed egli, essendo consoli, per la seconda volta Cepione e Filippo trapassò». «Allora appunto che, compiuti di 65 anni, io mi feci a propugnare la legge Voconia, con validi argomenti e con tutta l'energia dei miei polmoni». «Egno toccava il settantesimo anno, e in quell'ultimo stadio, povertà e vecchiezza, che tutti credono noie gravissime, sopportò con tanta fermezza, che quasi sembrava compiacersene». «Ad ogni modo, il tutto ben considerato, trovo quattro motivi per cui sembra infelice quest'età». «Il primo, perché distoglie l'uomo dagli affari». «L'altro, perché è accompagnata dalle fisiche infermità». «Il terzo, perché lo priva pressoché d'ogni volutà». «Finalmente, perché confina da vicino con la morte». «Esaminiamo dunque, ad una ad una, queste accuse, per giudicarne la verità». «Ma, in ogni discorso da me intorno alla vecchiezza tenuto, non sia per isfuggirvi di mente, che io di quella soltanto intendo parlare con l'ode, la quale discende da una gioventù ben allevata. «Ond'è che poi trovai concorde con me la pubblica opinione, quando reputai meritevole di commiserazione quella vecchiezza che può sostenersi in credito unicamente mercè la milanteria della parola?» «Non bastano le rughe sulla fronte, non i bianchi capelli per rendere di repente vulnerabile un vecchio. «Soltanto nell'ultimo periodo d'età raccoglie i tardi frutti di una vita costantemente onesta». «Resta una quarta causa che più delle altre questa miseretà conturba e tormenta. Voglio dire la vicinanza della morte, che certamente non può tardare molto a battere alla porta della vecchiezza. Ben poco sarebbe da compiangere quel vecchio che passata una lunga vita non gli bastasse l'animo di disprezzare la morte, della quale o non debba tener conto se l'anima interamente si spegne o desiderarla se per essa, sciolta dai terreni legami, spazia nell'eternità. Certamente fuori da questo dilemma non avvi altra via. Perché dunque temere, se morto, o avrò finito d'essere sensibile, o benanco posso andare alla volta della felicità? Infatti, non è forse presuntuoso quell'uomo, per quanto giovine sia, il quale nel mattino vantasi di sapere che sarà tuttora vivente la sera? Poiché nella giovanile età più frequenti sono che nella nostra i pericoli della vita, i giovinetti vengono colti più facilmente dalle malattie, le soffrono più gravi e ne risanono con maggior difficoltà, la onde, assai pochi fra essi, arrivano alla vecchiezza, e volesse pure il Dio che molti la toccassero, che gli affari della Repubblica procedessero con regola migliore, il senno, la ragione, la fermezza, essendo consueto retaggio degli uomini attempati, se questi mancassero cadrebbe nel disordine ogni buon governo civile. Ma ritorno all'idea della morte imminente. Perché? Perché far carico alla vecchiezza di un funestro accidente comune alla stessa adolescenza? La perdita dall'ottimo figlio mio, quella dei tuoi fratelli che avevano la prospettiva dei primi onori, è purtroppo la prova, o Scipione, che la morte non rispetta differenza d'età. Ma la speranza di lunga vita, che risplende al giovinetto, manca al vecchio. Speranza malintesa, dicono taluni. Calcola da sconsigliato chi tiene per vero ciò che è falso, e per certo ciò che non è. Certamente, osservo, il vecchio non può sperare nulla. Trovasi però a miglior condizione del giovinetto, perché già ottenne ciò che l'altro aspetta tuttora. Questi anela di vivere lunga vita, che d'altro fu già vissuta. Del resto, puosi ella, Dio buono, chiamare lunga l'umana vita, mi si conceda pure la vita più durevole che mai si possa immaginare. Vivrò gli anni di Argantonio, re di Tartesso, il quale, secondo la storia, regnò ottant'anni e centovent'anni ne visse. Tuttavia, non conviene, a mia opinione, stabilire, siccome regola generale, che ciò che è meramente effetto del caso. Per l'uomo che arriva a quell'estremo termine, tutto il tempo trascorso è zero. Non altro gli si tiene conto, forque del frutto, di sue virtù e buone azioni. Sfuggono le ore, i giorni, i mesi, gli anni. Non più ritorna il tempo passato, e l'avvenire è ignoto. Ciascuno ha dovere di essere pago della durata della propria vita, nella stessa guisa che poco importa se l'attore rimane sulla scena fino al termine della commedia, bastando per dargli applauso che reciti bene quando si mostra agli spettatori. Così pure il saggio non ha bisogno di vivere fino all'ultimo termine dell'età, affinché ottenga a propria azione le proprie azioni. Per breve che sia la vita, è sempre lunga abbastanza per chi sa vivere bene e onestamente. E perché arriva ad un'età avanzata, l'uomo non ha diritto di lagnarsene più dell'agricoltore, il quale lamenti perché dopo la florida, primavera e l'estate, succede l'autunno e il rigido verno. La prima è immagine della gioventù, e i venturi frutti prepara. Nelle altre stagioni poi si colgono e vengono assaporati. Il prezioso frutto della viecchiezza è dunque riposto, soffrite che io lo ripeta, nella memoria delle frequenti e nobili imprese operate. Dovendo, parmi, accogliersi in buona parte tutto ciò che avviene secondo l'ordine di natura, avvi mai cosa più ad esser consentanea che gli uomini d'età più remota siano da morte colpita quando i giovani medesimi soccombono ripugnante per essi la stessa natura? La onte, il morire dei giovani, rassomiglia a fiamma sommersa all'improvviso nella piena dell'acque, e invece la vita manca nei vecchi, siccome fuoco, consumata l'esca, di per sé a poco a poco si estingue. In quella guisa che è duopo ad operare la forza per divellere dal ramo il frutto ancora acerbo, il quale, se fosse arrivato a maturanza, cadrebbe da sé, così nella gioventù è violento il giungersi della vita, e nei vecchi avviene per maturità. Del qual pensiero, essendomi fatta piacevole abitudine, quanto più mi inoltro verso il limite della terrena carriera, mi sembra quasi di ravvisare la spiaggia e arrivare in porto tranquillo dopo lunga e procellosa navigazione.